Buongiorno e benvenuti da Mondomobiliare Lecce. Oggi siamo a Merine, nei pressi dei giardini di Atena. In un piccolo contesto condominiale, vogliamo presentarvi un grazioso appartamento posto al primo piano. Andiamo a vedere. Il soggiorno è scaldato da questo bel camino. Da questa parte si sviluppa il resto della cucina, servita dalla veranda. Sull'altro lato, invece, troviamo un disimpegno che conduce alle due camere con i doppi servizi, con affaccio sul retro del condominio. Questo è l'angolo cucina che si affaccia sul comodo balcone. La stanza matrimoniale ha un bagno in camera. Le due camere da letto fruiscono entrambe di un balcone comunicante.